Sono state presentate all'Aquila, a Palazzo Silone, le iniziative per il trentesimo anniversario delle stragi di Capace e Via D'Amelio, nell'ambito del premio Paolo Borsellino. Gli organizzatori del premio nazionale della Polizia di Stato, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati della Sezione Abruzzo e con il patrocinio della Regione, porteranno nei giorni 20 aprile a Pescara, in piazza Salotto per tutto il giorno, il 21 a Teramo, in piazza Martiri, il 22 a Roseto, in piazza della Repubblica, e il 23 all'Aquila, all'emiciclo, le cerimonie di disvelamento della Teca, contenente resti della Fiat Croma, ormai conosciuta come Quarto Savona 15, dal nome della sigla del lato di scorta di Giovanni Falcone, esplosa a Capaci. L'iniziativa si chiama La Memoria in Viaggio, un percorso che porterà il 23 maggio a Capaci. L'Abruzzo è l'unica regione che ospita l'iniziativa con quattro città coinvolte. La Quarta Savona 15 rappresenta la memoria e la speranza, è un percorso culturale, realizzato da anni all'interno delle scuole e dedicato soprattutto ai ragazzi. A distanza di 30 anni la vettura percorre chilometri per testimoniare la forza della legalità. Oltre al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, erano presenti la presidente dell'Aggiunta abruzzese dell'Associazione Nazionale Magistrati, Roberta Davoglio, e Francesca Martinelli del Premio Nazionale Borsellino. Quando parlo appunto di cicatrici parlo di segni, quindi è chiaro che la cicatrice è un segno ed è qualcosa che resta ed è visibile, ma rispetto a certe vicende, e questa era l'espressione forte che forse ho usato e di cui mi sono scusata prima, rispetto a certe vicende sarebbe bene che queste ferite non neppure si cicatrizzassero, ma restassero comunque in qualche modo sanguinanti, in qualche modo aperte, perché attraverso, e questo come? Attraverso il ricordo continuo, attraverso la memoria che si sollecita ogni volta, perché in questo modo noi riusciamo a trasmettere determinati messaggi alle generazioni nuove, ai nostri figli. Il Premio Nazionale Borsellino porta in giro per le scuole e attraverso questa teca in questi quattro giorni abruzzesi porta in giro la memoria e soprattutto il simbolo di quello che la mafia non è riuscita a fare. Ha distrutto una macchina, purtroppo la vita di tre agenti di scorta Giovanni Falcone, ma i loro ideali e i loro valori non li hanno fermati. Tina Montinaro porta questa teca in giro per l'Italia insieme alla Polizia di Stato, proprio per sottolineare questo, che li avete uccisi ma non li avete fermati perché erano semi. Ci sarà anche Tina Montinaro all'iniziativa e vedova di Antonio, che non si fermava nelle scuole a portare il suo messaggio. Anche il figlio di Vito Schifani sarà presente all'Aquila, oggi è un capitano della Guardia di Finanza nella scuola aquilana. Marzillo ha detto che con entusiasmo hanno messo a disposizione i loro spazi per un'iniziativa così importante, per esporre un segno tangibile di una tragedia che ha segnato la storia recente dell'Italia. Bisogna partire dalle giovani generazioni, bisogna creare nei giovani gli anticorpi per rifiutare il metodo, la mentalità che crea poi terreno fertile per le attività mafiose.